Qual è lo spirito delle sue ombre? È di riuscire a far diventare leggero il metallo, il metallo che in genere è molto pesante, mischiandolo con l'incisione a bulinatura, il colore, e riuscire a trasmettere un senso di leggerezza, di amore. È il loggiato del Teatro Signorelli di Cortona ad ospitare la mostra personale di Cristin Noella, un'esposizione organizzata dal circolo culturale Gino Severini. Di origine belga, ormai naturalizzata italiana, Cristin Noella vive e lavora a Perugia e vanta un curriculum straordinario per studi ed esperienza, una tecnica antica la sua che stupisce per strutture e bellezza. A Cortona una serie di opere che racchiudono la suggestione della metodologia artigiana con l'ispirazione dell'artista. C'è anche la libertà degli amori, la libertà degli omosessuali, la libertà dell'amore per tutti quanti e anche per la natura. E poi comunque c'è questa tecnica, non è che ho inventato niente, sono le tecniche che risalgono al Medioevo, che sono le tecniche delle icone, che io solamente trasformo per fare cose moderne, cose mie.